Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Allora, oggi io vi farò vedere come creare uno slime Sì, allora, per fare uno slime noi abbiamo usato questa vecchia scatoletta di uno slime ma si era seccato, quindi l'abbiamo buttato via e abbiamo lasciato la scatoletta per fare lo slime Per fare lo slime abbiamo bisogno di detersivo per piatti o un sapone qualunque e un po' di sale Allora, iniziamo, apriamo la scatoletta Mettiamoci un po' di slime Sì Ma non è slime, è adesso detersivo Poi, prendete un pizzico di sale solamente poco, pochissimo perché se ne prendete tanto allora lo slime potrebbe non venire fuori Pochissimo, eh? Tipo così Guardate Lo mettiamo nel video del stile per piatti Iniziamo a mescolare Però adesso stoppo il video perché per mescolare ci vuole tanto quindi stoppiamo Allora ragazzi Abbiamo già stoppato il video ma adesso l'abbiamo rifatto No, non l'abbiamo L'abbiamo fatto ricominciare Ma quale rifatto? Allora, abbiamo stoppato il video perché dovevamo mescolare e mettere lo slime nel freezer Allora, ora vi faccio vedere come è uscito Meglio dargli un'altra mescolata E ecco un attimo Oh, se li ha... Sì, così è già diventato Un slime Ecco, adesso gli sto dando una mescolata, vedete? Così si fa ancora più duro Oh, per me è già diventato uno slime Voi che dite, sei riuscito a fare lo slime? Per me è già riuscito a farti lo slime Quindi prova... quindi fai la prova di tocco No, io tocco Sì, è abbastanza Allora, lo slime è venuto abbastanza bene E è venuto una cosa così Stupenda Proviamo a prendertelo un po' di mano, no? Ecco qua È molto vicino È tipo... è tipo vetro, guardate Ora ve lo faccio vedere meglio Tipo vetro Tipo vetro Non vedete? Ma è venuto, sì Bene Allora Lorenzo cediti A questo punto diciamo che... sì, lo slime è venuto Ho tutte le mani sporche, me le devo là E allora... Ciao a tutti E ricordate di lasciare un like E scriverci nei commenti E iscrivervi Allora ciao e al prossimo video Ciao 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 Ciao